Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video dei prodotti finiti. Ho fatto molto di recente un video dei prodotti finiti, che casomai vi lascio linkato. Non vi avevo mostrato tutti tutti i prodotti in modo da appunto poter fare più video, un po' perché tanto io non posso uscire di casa perché non sto bene, e poi visto che comunque bisogna stare a casa tutti, purtroppo, perlomeno io faccio qualcosa nell'unasco di cervello e spero anche di fare compagnia a voi. Allora vado con un prodotto, con una cosa molto inutile, che sono i batuffolini di cotone di risparmio casa, niente di che, li utilizzo o per disinfettare magari le ferite, o per togliere lo smalto, oppure se devo pulire gli occhini alla gatta, insomma per queste cose qua. Poi, ho utilizzato questi patch occhi illuminanti di Patchology. Come al solito, i prodotti che vi mostro, giù nell'info box trovate link delle review che ho fatto sul mio blog, dove potete trovare inci, prezzi e quant'altro. Comunque, allora, questi patch hanno una buonissima profumazione, sono molto 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 sottili, aderiscono molto bene, molto bevuti di siero, lasciano la zona molto nutrita. L'unica cosa è che, siccome il siero è molto ricco, siccome il mio contorno occhi è normale, non è secco, per far assorbire il siero ci ha voluto molto tempo. Quindi io vi consiglio di applicarli prima di andare a letto, in modo da avere poi tutta la notte per assorbire il siero. Il giorno dopo vi svegliate con un contorno occhi da favola. Questi mi sono piaciuti molto. Poi ho utilizzato questa crema per il viso di questa marca, mi sembra si trovi all'OBS. È una maschera viso, idratazione e vitalità. Di questa non trovate la review sul mio blog, perché sinceramente non mi ha fatto assolutamente niente. Quindi è stata come non aver applicato una maschera. Poi ho terminato questa fialetta per il viso del marchio Dibi. Altro prodotto finito è del marchio Dibi, ed è una fialetta, un trattamento per tutte le pelli fragili e sensibilizzate. La fialetta era questa, era diciamo un olietto, però abbastanza leggero. Ovviamente io l'ho utilizzato di notte perché ho una pelle mista, mi è piaciuto. Al mattino mi sono svegliata con una bella pelle. È un trattamento che però per il mio tipo di pelle potrei fare una volta al mese o quando sono veramente messa male, diciamo. Poi ho terminato questo sapone della Essence per pulire i pennelli. Ha una profumazione strana perché sa di camino, però mi piace molto. Lavava molto bene i pennelli. L'ho pagato 3,19€. È molto carino ma ecco, anche abbastanza inutile perché possiamo usare tranquillamente un sapone liquido, una saponetta che abbiamo in casa per pulire i pennelli. Poi getto questo qua che era la spugna di cose della natura, io l'ho utilizzata per togliere le maschere dal viso e per togliere il latte detergente dal viso. Mi è piaciuto molto, molto morbida. Ce l'ho però da troppo tempo, quindi la getto. Ho l'affanno, scusatemi, ma stando sempre a casa zitta da sola, adesso anche parlare diventa una fatica. Ho terminato poi questo scrub per il corpo di Nakomi della linea Rainbow. Questo era uno scrub e wash, io l'ho utilizzato semplicemente come scrub. Era fatto a striscioline appunto dei colori dell'arcobaleno. È molto efficace, scrabba molto bene e inoltre lascia la pelle molto nutrita, molto morbida. Dopo questo non applicavo creme. Quindi è un ottimo prodotto, però sono 200ml. Costa un po' per essere 200ml, più che altro ecco uno scrub così piccolo vi dura pochissimo. E quindi non penso di acquistarlo più per questo motivo, però a livello di efficacia mi è piaciuto molto. Ho terminato poi questo balsamo labbra della Ibro Shea alla vaniglia. Ve l'avevo mostrato in un video dei prodotti labbra a confronto. Vi lascio il link di quel video. Mi è piaciuto molto la profumazione, ma come effetto idratante, nutriente, no. Questi balsamo labbra secondo me sono tutti uguali e cambia solamente la profumazione. Non li trovo assolutamente nutrienti. Sono sì idratanti, ma si applicati mille volte durante la giornata. Quindi ecco, io personalmente non acquisterò più questi balsamo labbra. Sempre della Ibro Shea ho terminato questa mini taglia di quest'acqua micellare che non c'è più. Mi era piaciuta, però appunto non la fanno più, quindi è inutile parlarne. Ho terminato poi questa Crema Corpo di Florinda. È certificato IAB, è mitil tested. Questa era della linea Alfico d'India. Ha una buona profumazione delicata, ha una cremina leggera che si assorbe velocemente, si massaggia bene, non fa scia bianca. La trovo molto idratante, quindi mi è piaciuta. Se però avete la pelle tanto tanto arida vi consiglio altro. Per il mio tipo di pelle è stata una buona crema, quindi ve la consiglio. E mi era stato inviato dall'azienda. Poi ho terminato questo qua, che è l'olio di mandorle dolci al profumo di tè verde dei Provenzali. Gli oli dei Provenzali a me piacciono tantissimo. Anche questo mi è piaciuto, la profumazione era buona. Lo utilizzavo per togliere i residui di cera dal corpo, per fare degli automassaggi. All'ultimo, ecco, ce n'era così. L'avevo aperto tanto tempo fa e quindi ci ho aggiunto del sale e ho fatto uno scrub. Comunque questi oli a me piacciono moltissimo. Costano il giusto, sono in vetro le boccettine, hanno buoninci, quindi sono buoni. Ho terminato poi anche questo sapone liquido al fico di Iope. Ve l'ho mostrato nell'ultimo video, che è quello dei prodotti stop flop e nì del periodo. Vi lascio linkato a quel video. La profumazione è buona, non è per niente dolce. Non mi ricorda granché il fico, però è buona. Non secca assolutamente le mani. Mi è piaciuto. L'unica cosa è che, come dicevo nell'altro video, fa poca schiuma. E per il periodo in cui siamo, vedere poca schiuma o addirittura punta, non mi dà l'idea di avere le mani pulite. Quindi è un nì per questo periodo, ma sarebbe un top in un normale periodo di vita. Ecco, mettiamola così. Poi vi segnalo questi qua, che sono delle salviettine per pulire gli occhiali, i telefoni, gli obiettivi delle fotocamere, delle iPad, eccetera. Queste si trovano alla Lidl, costano poco, sono tante salviettine, puliscono benissimo e quindi ve le segnalo perché sono le mie preferite. Io acquisto sempre loro, sono molto molto buone. Poi ho terminato ben uno, due, tre, quattro trattamenti di Clinique. In ogni cartoncino ci stavano tre campioncini, ve ne parlo molto velocemente. Allora, erano tre fasi. La prima fase sarebbe il detergente. Vi prendo un campioncino a caso, eccolo qua. Sarebbe il detergente. È un gel molto molto denso. La profumazione non mi è piaciuta, però non brucia gli occhi, lava molto bene la pelle, quindi alla fine come prodotto in sé non è male. La seconda fase è l'esfoliante. Era una salviettina esfoliante, però ne ho utilizzata solamente una, le altre le ho buttate perché mi bruciava talmente tanto che sono dovuta andare a risciacquare immediatamente il viso. Quindi questa fase, la seconda fase no. La terza fase invece è l'idratazione. Questa cremina idratante, molto leggera di texture, molto fluida. Si andava a spalmare velocemente, non fa scia bianca, però è molto molto idratante, molto ricca, anche se ha, ripeto, la texture leggera. Con ogni campioncino ho fatto due applicazioni. Mi è piaciuta, ma per il mio tipo di pelle questo trattamento lo andavo a utilizzare la sera perché altrimenti mi andrebbe troppo ad appesantire la pelle. La sera invece è perfetto, la mattina mi svegliavo con una pelle bellissima, quindi per quanto mi riguarda buona ma solo utilizzata la sera e per un periodo. Infine, ultimi due campioncini, c'è questo qua di Collistar che ha l'olio secco nutriente perfezionatore che non mi ha detto assolutamente nulla. E la crema mani di Hope, che è la stessa del sapone liquido. Questa qua era il ginger, profumazione molto molto buona di zenzero, una buona crema mani, idratante, non appiccicava la pelle. E' buona, penso di averci fatto tipo tre applicazioni con questo campioncino, ho anche la full size però mi sembra che sia con un'altra profumazione. In ogni caso buona e il pack dei prodotti di Hope è bellissimo. Quindi questi sono i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi e che cosa mi consigliate. Fatemi sapere anche che video magari volete vedere, calcolate che però io devo stare a casa, perché anche le idee qua stanno finendo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale attivando la campanella, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!